Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In A11 in direzione Pisa coda per traffico all'uscita Pisa Nord viaggiando verso Pisa. Possibili disagi per lavori in Fipili in direzione Mare tra Ginestra e Montelupo Fiorentino. Sempre in direzione Livorno coda tra Livorno Porto e Tirrenia per viabilità esterna che non riceve. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Livorno. Per lavori di riqualificazione tra Montelupo ed Empoli Est è stato prorogato il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con la completa chiusura della carreggiata in direzione Mare. Per un guasto l'impianto di chiusi i treni dell'alta velocità verso Roma stanno subendo ritardi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!